Buongiorno, oggi ci troviamo alla Enate, sede di Stihl, ex OM carrelli d'elevatori. Stihl è un'azienda del gruppo Kion. Kion è un gruppo globale, leader europeo nella produzione di carrelli industriali e secondo player mondiale nello sviluppo di tecnologie di integrazione della supply chain e automazione di magazzino. Più di 1.400.000 carrelli e 6.000 soluzioni di magazzini automatici sono stati consegnati nei sei continenti ai nostri clienti. È un gruppo che fattura nel 2018 8 miliardi di euro e che ambisce ad essere una double digit company nei prossimi anni grazie alla strategia 2027 lanciata da poco, dove l'innovazione digitale, la trasformazione digitale e l'automazione saranno uno dei principali campi di azione di questo gruppo. Mi chiamo Stefano Tagliabue, il mio ruolo è Signor Director IT per l'Emea Sud-Est. Faccio parte quindi della funzione IT Corporate di Kion. Il mio ruolo è quello di garantire gli standard all'interno della mia region, di coordinare i team IT locali, introducendo e armonizzando il più possibile i sistemi, tenendo sotto controllo costi, ma anche quello di raccogliere e interpretare esigenze del business provenienti da questi paesi. La collaborazione con DoFlu inizia più di dieci anni fa con OM Carrelli Elevatori, con la gestione documentale delle fatture attive, passive e documenti di trasporto integrati con il sistema SAP Legacy di OM. È proseguita poi con dei progetti speciali come la VEFA, cioè la verifica delle fatture passive, la postalizzazione delle fatture attive ai nostri clienti, l'archiviazione sostitutiva a norma sia dei documenti che della posta certificata. Questi tipi di servizi poi sono stati estesi anche a altre società del gruppo, non solo OM, ma l'Inde e Baoli Emea, Kion Financial Service. Con l'introduzione della fatturazione elettronica delle imprese, la collaborazione con OnFlow si è decisamente intensificata. Abbiamo avviato un progetto che ha impattato non solo Stil, ma tutte le società del gruppo Kion in Italia, introducendo DoFlu come intermediario nello scambio delle fatture tra i nostri clienti e dei nostri fornitori, ma non solo, anche l'interscambio di fatture intercompany tra le società dello stesso gruppo, utilizzando lo stesso partner. Questo ha avvantaggiato decisamente la collaborazione tra le imprese del gruppo Kion di poter contare su un partner italiano come DoFlu, che conoscesse la normativa, accreditato già presso l'Agenzia delle Entrate. Hanno facilitato la partenza di questo progetto, piuttosto che accettare la proposta di un partner di gruppo per la realizzazione della fatturazione elettronica tra le imprese in Italia. Un altro vantaggio è stato quello di poter contare su DoFlu per l'introduzione di alcune personalizzazioni richieste dal nostro business, come per esempio il caricamento manuale delle fatture dal portale, perché non in grado immediatamente di generare i flussi da SAP. Abbiamo rispettato i tempi, siamo partiti con la fatturazione elettronica nei tempi giusti, le società del gruppo sono state in grado di fatturare e di ricevere le fatture ai fornitori in modo efficiente. Crediamo che la collaborazione con DoFlu possa continuare anche in futuro. Stiamo pensando a come rendere molto più flessibile la gestione della posta certificata in azienda. Oggi con DoFlu noi archiviamo le PEC in un repository, ma questo non è sufficiente. Occorrono degli strumenti, delle piattaforme in grado di interagire con i provider di posta certificata e con i sistemi di archiviazione molto flessibili, molto efficienti. L'archiviazione della posta certificata è fine a se stessa. Il business è alla ricerca di una soluzione che integri il fornitore di posta certificata e l'archiviazione della posta. Avere un unico punto in cui organizzare e gestire i flussi della comunicazione della PEC è la richiesta che ci sta facendo in questo momento il business. Stiamo guardando con attenzione a una proposta DoFlu, FlowE, che può rispondere a questo tipo di necessità.